Ok, perché la bocca è storta e quindi ti ritrovi che avrai dei denti che sono più lunghi, degli altri che sono più corti, alcuni che sono più in qua, altri più in là. E in più la gengiva vicino agli impianti è una gengiva che ha una forma diversa dalla gengiva vicino alle radici e quindi avrai anche che tra gli impianti e i denti naturali si incastra cibo, perché ci sono degli spazi naturali, perché proprio il profilo dell'impianto è diverso rispetto alla radice. Se io taglio, questo è un dente per esempio, questa è la radice, io lo seziono qua, visto dall'alto, da qua, per esempio un premolare ha questa forma a pavesino, qua c'è poi il nervo, due nervetti, invece l'impianto dentale è così, è un cilindro, è un cilindro e quindi la gengiva qua sarà larga, qua a un certo punto la gengiva farà così, visto di qua, questo diametro, ci avrà poi qua un impianto dentale, qua faccio sì la corona che deve toccare questo dentale, ma qui sotto si crea spazio, perché questa vite deve avere una certa distanza poi dalla gengiva, quindi avere una bocca che ha tanti tipi di lavori diversi significa avere anche una bocca che è meno autodetergibile, l'autodetergibilità proprio, io parlo, la lingua, le guance, la saliva puliscono i miei denti, però quando inizio a avere protesi nella bocca diventa tutto più difficile, non si mantiene tutto pulito e quindi diventa anche difficile poi tenerli puliti quei lavori là, per questo serve andare a fare anche poi delle modifiche dei profili, andare a usare degli strumenti diversi per pulire che sono questi kit che vedete qui, avete già fatto la lezione di igiene con Inga, Yana, lei vi spiega poi come utilizzare tutti questi attrezzi, una alla volta vi fa l'igiene oppure fa delle sessioni qua, due alla settimana dove spiega come vanno usati, sono degli attrezzi questi che magari alcuni di voi già li conoscono come gli scovolini, che sono quelle spazzole che si passano tra un dente e l'altro e servono poi a pulire il cibo che rimane incastrato tra i denti, se non vengono poi usati spesso il cibo si incastra lì rimane incastrato e poi inizia a far sanguinare la gengiva qua dove si incastra il cibo e allora poi inizia a scendere la gengiva e si scopre che ne so la parte metallica che unisce la corona all'impianto che non è una cosa negativa, alla fine riesce a pulire anche meglio poi il colletto lì, anzi però crea delle zone dove il cibo si incastra è un'impera di 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 un'imper